I cinesi sono pronti a comprare lo zoo safari di Fasano. L'ipotesi che possa essere acquistato da un gruppo di Shanghai specializzato nella tecnologia 3D potrebbe concretizzarsi presto. La notizia non farà piacere ai fasanesi, orgogliosi della loro terra e di questo spicchio di giungla tra le colline della selva. Ma tutto fa pensare che un altro pezzo d'Italia, di Puglia in particolare, finisca nelle mani straniere. Almeno stando all'entusiasmo manifestato dalle due rappresentanti della Shanghai Creative City Technology Development, che hanno fatto una prima visita alla struttura, trovandola bellissima. Nelle prossime ore sarà formulata una proposta. Primo un incontro con l'amministratore delegato dello zoo safari, Ugo De Rocchi, poi un giro nell'enorme parco che ospita 1700 animali. Bellissimo! Guardiamo insieme, poi discussione su questa cosa. La società cinese che opera nel settore della multimedialità sarebbe alla ricerca di un luogo per girare produzioni e post-produzioni per il cinema. Location anche per animali, per tv, per video, per film, è un paradiso. Dall'altra parte le difficoltà generate dalla crisi insieme a mille ostacoli che gli imprenditori stanno incontrando in questi anni, sta rendendo la vendita quasi una scelta obbligata da parte della proprietà. Per anni non c'è stata alcuna intenzione reale di vendere tutte le offerte, sono state ignorate. Tranne questa che si sta concretizzando a malincuore, lo zoo potrebbe cambiare proprietà. Forze fresche possono anche rivitalizzare. Un parco che cerchiamo sempre di tenere vivo e vegeto, però diventa sempre più difficile proprio con i legacci, i legaccioli che ci sono in Italia. Non è soltanto una questione economica, noi dobbiamo anche difendere dei posti di lavoro.